Per quanto riguarda i soldi, noi non abbiamo forza economica, non abbiamo risorse ma anche se non abbiamo forza economica abbiamo la forza delle nostre idee, la forza della nostra passione e la forza della nostra speranza. Abbiamo l'entusiasmo di tantissime persone che già in 24 ore ci hanno fatto sapere che aderiranno al movimento politico del nuovo centrodestra e quindi sono sicuro che riusciremo a superare anche quel limite.